Questo programma è offerto da Over, leader in costruzioni e montaggi in pianti chimici industriali. RIDEA, design sostenibile ed innovazione per il tuo riscaldamento domestico. RIDEA, design sostenibile ed innovazione per il tuo riscaldamento domestico. RIDEA, design sostenibile ed innovazione per il tuo riscaldamento domestico. Faremo veramente un sacco di premiazioni, ci saranno dei momenti ludici, dei momenti molto seri. Daremo anche da mangiare alle persone che verranno qui a trovarci, ma io non svederei troppo. No, rimandiamo a dopo. Allora sai cosa facciamo adesso? Vado a vedere chi è che sta arrivando e magari sta già gustando un aperitivo. Andiamo a sentire qualche parere su questa grande serata. Restate con noi, mi raccomando. Deer, I fear we're facing a problem. You love me no longer. I know and maybe they're... Quanta, quanta bella gente... Abbiamo anche un ex Golden Vip che tenta di scappare. Il dottor Piazzoli ha questa serata conclusiva dell'HD Velo Sport. Da premiato l'anno scorso, la soddisfazione è anche di vedere altri che proseguono questo elenco importante di premiati con il Golden Vip. Tra l'altro so che con il credito bergamasco fondazione, il professor Rambaldi è decisamente un alto valore. Sì, per la ricerca scientifica abbiamo scelto proprio il top e siamo sui livelli assolutamente internazionali, quindi proseguiamo una bella tradizione. Per il Golden Vip è Antonio Percassi in questo momento, chi meglio di lui, quindi è una degna successione, anzi ad mai ora. Una chicona piccola anteprima, la prossima mostra, il prossimo momento artistico veramente bello da far vedere a tutti i bergamaschi già in preparazione, quale sarà? A ottobre portiamo per la prima volta fuori da Loreto gli otto, anzi i nove capolavori di Lotto, di Lorenzo Lotto, per la prima volta escono e saranno da noi. C'è un dipinto di Lotto in restauro, abbiamo dipinti di Previtali e per l'anno prossimo indirittura è una cosa che farà clamore. Con Carminati, onorevole Stucchi, una bella serata qui entrambi, stavate discutendo di calcio? No, di una cosa che riguarda l'onorevole, puoi immaginare che cosa. Una bella serata, parliamo di solidarietà questa sera, una bella serata, lato conclusivo con l'Accademia dello Sport, credo un momento importante dove è bello esserci perché si fa veramente del bene. Assolutamente, ed è la cosa più bella poi alla fine, nel senso che quando si dona gratis, poi dopo ritorno indietro già nel cuore aperto. La comunità vergamasca ha un grande cuore, siamo tra i primi in Italia e nel mondo forse come volontariato, come solidarietà, come vicinanza alle persone che hanno bisogno. L'abbiamo testimoniato in mille occasioni, anche in occasioni drammatiche, ed è bello questa sera essere qui a ricordare quello che è il lavoro prezioso svolto da queste persone. Claudio Bombardieri, questa serata conclusiva dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, direi che è un momento bello perché ci incontrano tanti amici, si parla di solidarietà, ci si diverte, tutti gli ingredienti ideali per una bella serata. Bellissimo come sempre e la cosa più bella è che Licini ha detto che ci sarà anche l'anno prossimo, che sarà ancora meglio in quest'anno, quindi la progressione è sempre continua. Ciao, grazie. C'è un altro Golden VIP 2016 che questa sera vede altri sei sul palco ma che ha già vissuto la soddisfazione e soprattutto anche l'emozione di questo premio. È stata una bella emozione l'anno scorso, sono contento per il vincitore che è una persona estremamente preparata, un uomo di grande ingegno che dà una grossa mano ai pazienti. Dal campo da tennis questa sera in versione ufficiale invece per l'atto conclusivo di questa grande annata dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Credo che ti hanno fatto giocare tre partite consecutive quasi alla fine. Per due o tre giorni sì, due o tre partite consecutive, purtroppo andate male. Però ci sembra divertirsi e soprattutto è bello fare solidarietà in questo modo. Sicuramente, complimenti all'organizzazione, a Giovanni, a tutti i ragazzi che hanno contribuito a rendere come al solito vincente questa iniziativa qua. Complimenti. Quasi non l'avevamo riconosciuto, ben per sei volte in abiti borghesi, non in divisa da tennis, non in divisa da calcio. Non siamo più abituati a vederti così ormai, sei sempre in prima fila. A meno così sono presentabile, capito? A meno ho un qualcosa che mi posso... capito? Senti, il nuovo look con la barba era per questa edizione del 2017. Hai già in mente cosa anticipate per l'anno prossimo, qualche anticipazione? No, che non avevo voglia di farla. Allora mi sono lasciato il pizzetto, capito? Hanno detto che sto bene e quindi mi sono lasciato convincere e mi sono tenuto così, quel popò di barba bianca. Tullio Gritti non poteva mancare al lato conclusivo dell'Accademia, quindi dal campo in terra rossa, dal campo verde dello stadio comunale a questa serata per la solidarietà e l'Accademia. Sì, è la mia prima volta che vengo qui e sto vedendo che è tutto organizzato in maniera eccezionale, ma quando c'è Giovanni difficilmente si sbaglia. Poi in questa sera ci sarà anche il Presidente che verrà premiato un premio molto importante nel giorno del suo compleanno, tra l'altro. Ebbè, credo che già per quello che fa nella sua vita imprenditoriale, ma quello che poi ha raggiunto, credo, quest'anno con l'Adalanta, il premio non si è adatto alla persona migliore. Senti, rompete le righe, un po' di vacanza finalmente, le tensioni che sfumano per poi riprendere con questo obiettivo Europa. Sì, ce lo siamo conquistato, meritato proprio sul campo alla grande, ce l'andremo a giocare come abbiamo sempre fatto alla grande. Poi quello che verrà accetteremo. Paolo Occhipinti, sempre impegnato sul campo da tennis, quasi tutte le sere, su questa terra rossa. Questa sera un po' più di relax, ma credo per un avvenimento come prepara l'Accademia dello Sport per la Solidarietà sempre piacevole. Sì, sì, finalmente ci riposiamo. Comunque Giovanni Licini è veramente un mostro perché organizza delle cose sensazionali. Stasera poi siamo quasi 600, quindi è una cosa magnifica. Il torneo è stato molto divertente. Poi questa formula consente di giocare sempre con avversari più o meno alla pari, quindi sono partite molto combattute e divertenti. Bene, signore e signori, buonasera. Benvenuti alla Fiera di Bergamo per questa grande serata conclusiva della stagione di golf, tennis, ma non della solidarietà, firmata dall'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Prima di iniziare, di entrare nel vivo, vi pregherei proprio di due parole soltanto. Credo di essere una persona estremamente fortunata perché rimanere a contatto per tanti giorni, in questi anni, con gente comune, ma anche con grandi personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, dell'imprenditoria, ci ha portato a conoscere veramente delle persone uniche, speciali. Una di queste, nelle tante interviste che abbiamo realizzato, due anni fa ci ha dato l'opportunità di viverla a stretto contatto. Una mattinata speciale che, insieme a Erminio Milesi e con le sue riprese, abbiamo trascorso in Città Alta, a casa di una persona, credetemi, meravigliosa. avrebbe compiuto 99 anni dopo pochi mesi e ha accompagnato tante copertine del libro speciale dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà con le sue incisioni. Incidere una lastra non puoi sbagliare, devi avere la mano ferma. Lui riusciva a fare tutto questo con il cuore, con il sorriso. Ed è stato veramente una persona speciale per tutti noi. Io mi ricordo quando ci ha accompagnato all'ascensore, che ci portava poi al piano basso della sua abitazione, mi ha detto una cosa che difficilmente dimenticherò. Marco, ricordati sempre di guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Questo era Trento Longaretti. Entriamo nel vivo di questa serata. Abbiamo la prima parte con le premiazioni, golf, tennis. Ma io ormai mi sto trattando bene, Giovanni Licini, ma io è abituato a trattarmi bene perché condivido questo palco con una persona speciale. Una voce meravigliosa, una presenza splendida. Da RTL 125. Laura Ghislandi, vengo a prenderti. Vieni qua. Cercherò di essere atletica, ma faccio veramente fatica. Buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera. Vedi, dal Teatro Kreberg alla Fiera di Bergamo, tantissima gente anche questa sera. Ma perché io non ho mai la cartellina? E tu, questo è nonnismo, te lo dico, è nonnismo. Me l'hanno regalata i nipotini questa, non posso. Io non ce li ho, ho un foglio di carta, ma va bene uguale. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie mille per essere qui questa sera, per i nostri grandi festeggiamenti. Finali. Esattamente. Parziali. Ma anche finali, è giusto. Avremo un sacco di premiazioni questa sera, ma prima di tutto io chiamerei colui il quale, grazie al quale questa cosa... Alla sua tenacia, ai suoi 18 telefonini, alle sue telefonate interessanti, ci ha accompagnato da mesi. Giovanni Licini. Vieni Giovanni. Dov'è? È di qua. Il microfono è tutto tuo. I saluti ufficiali devono essere i tuoi, come sempre. Metto gli occhiali perché ormai gli anni passano anche per me. Innanzitutto, anch'io mi voglio associare al commosso cordoglio per la morte di Tento Longaretti, che è stato un amico per tanti anni per la nostra associazione. I quadri che avete visto passare erano tutti quadri che lui ha dato per noi, per la nostra associazione che abbiamo ceduto ai nostri sponsor. Pertanto, anche grazie a lui abbiamo raccolto tantissimi, tantissimi fondi. Trovarci qui in questa cornice così importante e una platea così numerosa è anche l'occasione per alcune riflessioni che coronano un lungo percorso, complesso ma soprattutto felice. La prima riflessione è legata al tema della continuità. Avere concluso la 41esima edizione di questo torneo di tennis vuol dire aver dato vita per la 41esima volta a una splendida storia fatta di sport, amicizia, valori e impegno. Un impegno che negli ultimi anni si è legato in maniera sempre più stretta a volontariato, al sociale, alla beneficenza e è proprio a questa unione che abbiamo trovato l'infa vitale per migliorarci ancora anno dopo anno. L'emozione di donare non si ferma mai. Lo abbiamo capito in questi 14 anni che ci sono tradotti in 1.150.000 euro donato a tante associazioni bergamasche. Ma non solo. È forse con la matrice, con lo ricente impegno per quella terra fragellata della tragedia del terremoto, che abbiamo appreso una lezione ancora più importante. Spesso in questi anni abbiamo legato il nostro impegno ai progetti di tante ammerevole realtà attive nel sollievo di chi soffre per una malattia, quel pericolo che purtroppo è sempre in agguato nella quotidianità della vita umana. Il dramma del centro Italia, invece, ci ha messo davanti agli occhi la triste immagine di come la vita di ognuno possa cambiare in un secondo, nella maniera più impensabile, con la perdita immediata e imprevista di persone care, di tutto ciò che ci circonda, gli affetti, la casa, il lavoro di una vita, tutto perduto e sgretolato senza preavviso, senza che potessimo neppure immaginarlo. Il nostro slancio immediato fuori di quella popolazione di matrice ci ha donato emozioni profonde che rimarranno attaccate al nostro cuore per tanto tempo. Ma renderci orgogliosi non solo solo i sorrisi delle persone che abbiamo aiutato direttamente in questi anni. L'Accademia dello Sport ha saputo farsi d'apripista per tante realtà. Il nostro orgoglio è essere la scintilla che alimenta il fuoco della solidarietà. Perso anche un contributo che l'Atalanta vorrebbe dare per la ricostruzione del campo di matrice. Un'iniziativa preziosa, nata grazie a una semplice telefonata con Cristina Radici. Penso all'iniziativa che tra giugno e luglio porterà, grazie alla provincia di Bolzano e al comune di Monguelfo, 15 famiglie di matrice in quei luoghi per portare da loro un po' di prezioso sollievo dopo mesi difficilissimi. E' questo che ci rende fieri e orgogliosi. Contribuire anche dietro le quinte, allacciando rapporti e tessendo nuove storie di solidarietà, con tante realtà che dimostrano i nostri stessi valori, la sensibilità, ma anche e soprattutto la concretezza. Il tennis 2017 è stato un successo. Ogni anno, quando ci avviciniamo ai vari tornei, consultiamo quotidianamente le previsioni del tempo. L'unica variabile a cui non possiamo influire. Quest'anno il clima è stato della nostra parte, per quasi tutte le tre settimane di gare. E questo ci ha permesso di accogliere tantissime richieste di amici e ospiti, pronti a giocare con noi per la solidarietà. Abbiamo giocato su nove campi, ma ce ne sarebbero voluti almeno il doppio. E abbiamo messo in campo con uno sforzo immane per poter incastrare tutti i tabelloni e tutte le esigenze. In queste quattordici serate del torneo abbiamo avuto 486 partite, per un totale di 648 ore giocate. Una cosa impossibile. A livello comunicativo, dal 12 maggio oggi abbiamo registrato circa 130.000 visualizzazioni sui social e sito. Sono nomi straordinari che hanno dell'impossibile. Un successo straordinario che ci permette di onorare al meglio figure che sono state l'emblema di Bergamo e dei suoi valori, nello sport e nel mondo professionale. Achille Cesare Bortolotti, Giacinto Facchetti, Elio Rodovici, Franco Morotti. Ma questa non è solo serata dei bilanci, è soprattutto una serata di gioia e di emozioni. Grazie alla consegna di Golden VIP, i riconoscimenti che ogni anno la nostra associazione conferisce a personalità di assoluto rilievo nell'interno parorama italiano. La nostra attenzione per la ricerca scientifica ci ha portato a conoscere e premiare, nel corso di anni, medici e stanziati di livello assoluto, specialisti che portano un contributo straordinario alla comunità e all'umanità, in settori diversi e importanti. Stasera il Golden VIP andrà al professor Alessandro Rambaldi, dell'ospedale Papa Giovanni. Aggiungiamo un tassello anche per la ricerca dell'ematologia, di cui il professor Rambaldi è un luminare riconosciuto a livello mondiale. Ogni anno poi rinnoviamo il nostro legame col mondo dello sci, nel senso della tradizione di una famiglia, i Radici, e in particolare per le figure di Luciano e Gianni Radici, che hanno fatto grande la nostra provincia, tanto nell'imprenditoria che nello sport. Abbiamo la fortuna ogni anno di avere tanti talenti italiani leader nelle classifiche mondiali. Questo però è un anno speciale, perché nell'Olimpo dello sci mondiale c'è una ragazza tutta bergamasca, Sofia Goggia, presente e futuro di questa disciplina. E questo è ancora un anno specialissimo, se pensiamo a un altro legame profondo tra imprenditoria e sport. Per lungo tempo ho proposto a Antonio Percassi, imprenditore di successo e presidente dell'Atalanta di Record, di accettare il nostro Golden VIP, perché se lo sarebbe già meritato tanto tempo fa. Prudentemente ogni volta metteva davanti alla sua gloria personale la certezza di buoni risultati per l'Atalanta. Stavolta ha accettato il riconoscimento già a novembre, evidenziando ancora una volta quella lungimiranza che gli è sempre stata riconosciuta, perché in queste settimane possiamo finalmente celebrare un risultato straordinario, il ritorno dell'Atalanta in Europa e il quarto posto in classifica. Il lavoro che ci aspetta normalmente è oneroso e improbo, ma serate come queste ci donano carica per proseguire e fare ancora di meglio. Devo ringraziare in primo luogo tutti i volontari che nell'ombra permettono la realizzazione delle nostre attività. Sono loro la parte fondamentale della nostra associazione. Chiedo a voi un applauso per questi ragazzi, perché se lo meritano immensamente. Grazie, ragazzi. Così determinati, io ho quasi finito, sono pure i nostri sostenitori, di sponsor, che ci sono sempre vicini, nonostante le difficoltà dei tempi. Sono questi sforzi quotidiani, grandi e piccoli, a permetterci di continuare il nostro impegno, anche perché Bergamo e la sua gente sono terreno fertile, sui cui seminari i nostri germogli di solidarietà. Con la nostra terra, con la nostra gente e col vostro aiuto sicuramente raggiungeremo nuovi traguardi. Grazie. Giovanni Vicini. E adesso parte una clip che ci introduce direttamente nel mondo di questi giorni, quando il tennis è stato protagonista al Centro Mongodi di Cividino, oltre al golf. Grazie a tutti. Giovanni Vicini. Eccoli qua tutti i collaboratori dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Un milione e duecentomila euro raccolti negli ultimi anni e quest'anno le associazioni interessate al progetto per tutto quello che verrà raccolto in questo 2017 sono l'Associazione Italiana Persone Down Onlus Bergamo per un progetto di inserimento nel mondo del lavoro. Un progetto meraviglioso. L'Associazione Cure Pagliative Onlus Bergamo. E l'Associazione Aiuto al Neonato presso l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Dobbiamo chiamare delle persone che hanno reso grande anche questo 2017, ma che lavorano da tanti anni insieme a noi. Vieni al centro Giovanni. Vieni, vieni, vieni. Quindi inviterei a salire la famiglia Chiesa con IBS Cadelbotto, la signora Ivana Ezio Chiesa. Grazie per essere con noi. Grazie. Anche quest'anno ci hanno deliziato con delle cose meravigliose. Salutiamoli con un applauso. Ringraziamo anche la famiglia Catanio, ovviamente dei vivai Catanio. Chiamiamo la signora Letizia e il signor Luigi Catanio. Grazie mille. Quindi invitiamo anche loro a salire con noi, così come la famiglia Sottocornola della Stone City, che ci ha ospitato, purtroppo sotto la pioggia, in quello che doveva essere un evento di inaugurazione, ma che comunque è presente con noi, ci è stata vicini, quindi invitiamo Mario Sottocornola con i figli Gianni, Roberto e Alberto a raggiungerci sul palco. Molto bene. Poi c'è un omaggio a Longhi Banketing. Ovviamente chiamiamo il signor Silvio Longhi e sua figlia Damiana. Hanno deliziato con la ristorazione quest'anno tutte le serate al centro Mongodi e un ringraziamento va fatto anche per la scuola alberghiera San Pellegrino, perché i ragazzi che anche questa sera collaborano e sono bravissimi, presenti, puntuali, sorridenti, arrivano dalla scuola alberghiera di San Pellegrino, molti. Ringraziamo quindi il dirigente Brizio Campanelli per la collaborazione offerta a questo evento e ringraziamo anche, soprattutto Stefano Cristini, che anche questa sera come direttore dell'Ente Fiera di Bergamo ci ospita in questa meravigliosa location. Allora, adesso passiamo alle premiazioni del golf. Voi sapete che la stagione ogni anno inizia con tre manifestazioni golfistiche. Siamo stati a Villa Paradiso, a Cornette d'Adda, poi siamo andati al golf di Franciacorta e poi ad Almenno al golf club L'Albenza, golf club Bergamo. Bene, si premiano adesso quindi queste tre gare. Che invitiamo a premiare? Invitiamo a premiare oltre all'Accademia dello Sport, quindi Alessandro Masera, Giovanni Licini, Danilo Arizzi, Franco Lamera, Ezio Chiesa, Gianangelo Cattaneo, Cristina Radici e Angelo Fratus. Quindi se ci vogliono raggiungere per premiare i vincitori, che chiamiamo tutti insieme sul palco, a partire dal primo super senior Gianangelo Cattaneo. Primo senior invece Gregis Bruno. Quindi Bruno Gregis e poi il primo lordo Alessandro Ghilardi. Primo classificato terza categoria Matteo Arizzi. Il secondo, anzi in seconda categoria il primo classificato Aldo Maffeis. E primo classificato della prima categoria chiamiamo Danilo Arizzi. Tutti davanti. Voi seguitesi davanti, se no dopo facciamo arrabbiare i fotografi. Facciamo un applauso a tutti questi vincitori nel mondo del golf. Bravi. Che con la loro presenza hanno contribuito ad aumentare chiaramente quanto è stato raccolto quest'anno per i tre progetti che abbiamo menzionato prima. Il mondo del golf ormai appartiene alla tradizione dell'Accademia dello Sport per la solidarietà. E quindi loro, ma tutti quelli che hanno partecipato quest'anno hanno dato una grossa mano, un bel aiuto per arrivare a questa somma raccolta nel 2017. Che come detto aiuterà le tre associazioni che abbiamo appena ricordato. Bravo. Invitiamo a seguire sul palco di sponsor le aziende principali che hanno reso bello tutto questo torneo. Come l'ho? Mi dobbiamo per forza ringraziare, mi sembra anche doveroso. Puoi iniziare tu? Partiamo quindi dal capo aria Bergamo, credito bergamasco Stefano Bonato. Poi per Mediolanum il vicepresidente Giovanni Pirovano, che ringraziamo e invitiamo a sedere sul palco. Per Cosberg Gianluigi Viscardi. Poi per Gioielleria Curnis Carlo Curnis. Per SMV Costruzioni Cristoforo Giorgi. Progetto Giardino con Mauriello Pinuccio, tennista fino all'ultimo secondo, grande agonista. Grande. Per invece IBS Salumi Ezio Chiesa. Italiana Assicurazioni con Roberto Gallo. Mauro Sport, Enrico Barcella. Poi abbiamo per il caseificio latini Adriano Latini. Ci spostiamo io e te. Per Ovet, Enrico Brignoli. Poi per la Talenta Bergamasca Calcio, Luca Percassi, che invitiamo a salire un attimo sul palco per ritirare questo riconoscimento. Per Despe invece chiamiamo Giuseppe Panseri. La Plastic, Gianangelo Cattaneo, che già qui con noi investe anche di consigliere dell'Accademia. Per Plastic, Gianangelo Cattaneo l'hai chiamato tu. Unilegno Italia, Bernadette Alieri. Poi TB Group, Tiziano Brugnoli. Gli abbiamo nominati anche prima. Vivai Cattaneo, Gianluigi Cattaneo. Stone City, Gianni Sottocornola. E Claudio Bombardieri per Union Chimica. Bene, direi che ci sono tutti. Gli invitiamo... Bravo. Sì, no, un applauso perché sono queste aziende che contribuiscono poi a rendere importante la solidarietà e soprattutto, lo ricordo sempre, regalare un sorriso e un aiuto concreto a chi ne ha realmente bisogno e questa è la missione che l'Accademia dello Sport per la Solidarietà da anni continua in perterrita a seguire proprio per arrivare in aiuto di chi ne ha veramente bisogno. Bene, facciamo un applauso allora a tutte queste aziende, a queste persone. Allora, iniziamo con le premiazioni. In torneo squadre, trofeo Accademia dello Sport per la Solidarietà. Invitiamo a salire sul palco la squadra seconda classificata, composta da Ciro Bresciani, Fabio Bosatelli, Fulvio Caiss, Egno Frigeni, Graziano Innocenti, Claudia Menin, Lele Messina, Alessandro Monguzzi e Alessandro Vanoi. Diciamo anche chi premia? Sì, premiano... Ok, Carlo Curnis, Tiziano Brugnoli e Claudio Bombardieri. Sono già pronti. Secondi classificati, un applauso per questo torneo squadre. Perfetto, non fate la ola in questo istante, aspettate. Ma l'autore che ha ingoiato funziona oggi, bravo. Mi raccomando. Ok, ci siamo. Allora, passiamo ai primi. Primi classificati, Antonio Viscardi, Paolo Cervis, Paolo Agnelli, Claudio Bianchi Cassina, Natalia De Sousa Santos, Marino Magrin, Paolo Occhi Pinti, Gianpaolo Rossi e Damiano Zenoni. E vai, eccoli qua tutti. Questi signori sono i vincitori del torneo a squadra e trofeo Accademia dello Sport per la Solidarietà 2017. E io vorrei qui vicino a me adesso il dottor Pirovano. Dov'è? Dottor, ecco, venga, 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 venga. Dottor Giovanni Pirovano. No, perché Mediolanum è entrato come primo anno al fianco dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà e ringraziamo anche due collaboratori fantastici come Corrado Fontana ed Emilio Pedretti che sono stati presenti tutte le sere puntuali. Credo che sia stata una bella esperienza. Le lascio il microfono. Sì, è stata una bella esperienza per Banca Mediolanum essere a fianco dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. La solidarietà è anche uno dei principi fondanti dell'attività della Banca Mediolanum, dei colleghi Pedretti e Fontana. Per cui siamo contenti, siamo felici, siamo onorati. Un grazie speciale al signor Giovanni per tutta l'attività che sta dando. Da parte nostra la Banca Mediolanum prosegue il suo impegno. Voi sapete che siamo la prima banca per solidità in Italia, la seconda in Europa. Siamo presenti qua a Bergamo in maniera molto efficace. E proprio a Bergamo, il 19 luglio, al Golf Club Albenza, incontreremo tutti i rappresentanti della Confindustria di Bergamo per illustrare il nostro impegno per le piccole e medie imprese a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della legge sui piani individuali di risparmio che sono fondi che le banche in Banca Mediolanum in primi stiamo raccogliendo e sono destinati per legge alle piccole e medie imprese. Quindi si rafforza il legame tra Banca Mediolanum e la provincia di Bergamo. Grazie. Bene, lo aspettiamo allora anche l'anno prossimo. Grazie Giovanni. Ed ecco Corrado Fontana e Emilio Pedretti che sono stati gli arrieti di queste serate all'Accademia dello Sport in rappresentanza di Banca Mediolanum. Gli arrieti, ho sentito bene. Giocavano anche per vedere che impegno avevano sul campo da tennis. Bene, passiamo adesso a un altro torneo importante, ringraziamo questi personaggi. Andiamo con il trofeo Accademia dello Sport singolare maschile classificati. È finita 9 a 7, sono stati fantastici. Terzi classificati, intanto sono arrivati Sergio Porrini e Mario Yelpo. Salutiamoli con un applauso e li invitiamo a salire sul palco. Secondo classificato, Ciro Bresciani. Bravo Ciro. Mentre per il vincitore facciamo partire questa clip, vediamo chi ha vinto il singolare classificati. Buongiorno con un applauso e li invitiamo a salire sul palco. Ciro Bresciani stava in piedi in campo, ma non perché era stanco. Aveva lanciato talmente stretta una scarpa e poi si è allentata, non riusciva a levarla. Praticamente era come giocare con una pantofola. Quindi ogni 3x2 cadeva per terra. Però è una grande esibizione, devo dire. Due grandi giocatori, lui e Ciro Bresciani. Bene, passiamo adesso invece al trofeo. Coelio Lodovici, doppio misto. Quindi, terzi classificati, Francesca Vitali e Alessandro Masera. Poi Natalia De Sosa Santos e Fabio Bosatelli. Abbiamo la prima coppia e poi Francesca Vitali e Alessandro Masera. Alessandro c'è già. Adesso arrivano, con calma. Ecco Francesca che arriva. Gianluigi Viscardi sorridente nel consegnare questo splendido premio. Ai terzi classificati. E invitiamo quindi a salire anche i secondi classificati. Come no? Chiamiamo quindi Cristina Radici e Oscar Magoni. Cristina Radici e Oscar Magoni. Piccolo retroscena. Cristina Radici che ha iniziato da poco a giocare a tennis, ma con ottimi risultati, devo dire. La seconda classificata è più che ottimo. Ed ecco Oscar Magoni. E adesso vediamo questa clip per i vincitori del trofeo Elio Lodovici 2017, doppio misto. Saludiamo con applauso Rossella Librizi e Andrea Schillaci. Prima e classificati nel doppio misto. Bravi, complimenti. Complimenti. Allora, vi invitiamo a mettervi perfetto nella parte avanzata del palco, un po' più avanti, grazie, se no fate impazzire i fotografi. Un altro torneo estremamente importante perché è intitolato una persona che da sempre è stata vicinissima all'Accademia dello Sport. Coppa Franco Morotti, singolare, maschile, categoria B. Terzi classificati Roberto Paratico e Roberto Bergomi. Secondo classificato invece Luigi Pizzaballa. È riuscito a regolare tutti gli avversari una alla volta. Eccolo qui, salutiamo con applauso Gigi Pizzaballa, secondo classificato. Una delle più grandi figurine dell'Atalanta, oltre che un ottimo portiere, perché non era solo una figurina lui, ma un grande, un signor portiere. E adesso con questa clip andiamo a vedere il vincitore della Coppa Franco Morotti. Il vincitore della Coppa Franco Morotti Salutiamolo con un applauso, Luca Marconi. Vieni Luca! Eccolo che arriva, bravissimo Luca. Ma giustamente aveva iniziato a mangiare, povero Luca. Eh beh, un vero taleta, vi ha disaffermato, complimenti Luca. Qui avanti, vicino alla famiglia Morotti. Vincitore quindi del singolare maschile, categoria B. E il dottor Gallo, dirigente responsabile Vita Italiana Assicurazioni, consegna la targa al vincitore. Dottor Gallo, posso rubarle un istante qui con me? Io vorrei un ricordo però di Franco Morotti. Intanto buona serata a tutti e con piacere e anche con un po' di commozione che indegnamente consegno questo premio al vincitore, premio di Italiana Assicurazioni in memoria del Cavaliar Morotti che ricordiamo è stato un nostro consigliere dal 2006 al 2013. Se mi consentete dal punto di vista personale, è la prima volta che mi capita di essere dall'altra parte perché essendo stato io un tennista anche se di scasso livello, però di solito qualche premio lo prendevo. Invece adesso lo consegno, vuol dire che purtroppo è passato tanto tempo. Arrivederci al prossimo anno, grazie a tutti. Grazie mille dottor Gallo. Passiamo adesso a un'altra premiazione, un altro grande personaggio che negli anni ha accompagnato tutta l'attività dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Stiamo parlando di Giacinto Facchetti. Esatto, singolare maschile, partiamo dai terzi classificati. Chiamiamoli quindi terzi classificati. Carlo Pelegatti e Dario Hubner. Terzi classificati nel trofeo Giacinto Facchetti singolare maschile. Io inviterei a salire per un premio speciale del trofeo Giacinto Facchetti, una persona altrettanto speciale. Non è arrivato secondo, ha partecipato. Sapete perché? Perché è un premio over 60. Lui, non si direbbe, ma ha quasi 80 anni, corre più di un ragazzino. Salutiamolo, Adriano Latini, vieni sul palco. Adriano Latini, premio speciale per il trofeo Giacinto Facchetti, grande trascinatore. Eccolo qua. Ti abbiamo dato il premio over 60, hai visto? Sono pronti adesso a premiarti, guarda chi arriva. Danilo Arizzi, consigliere dell'Accademia dello Sport. e Cristina Redici che si prepara. Bello questo applauso spontaneo per un grande trascinatore del tennis dell'Accademia. Bravi. Quindi, grazie mille. Chiamiamo sul palco il secondo classificato Luca Locatelli. Luca Locatelli, eccolo lì. Che si vede arrivi da là sentendo l'urlo del tavolo. Bravo Luca. Bravo Luca, fino alla fine, tosto, sfumato per un pelo la vittoria. Comunque complimenti, bravo. Ah già, questo è un tre. Qua e mezzo, bravo Luca. Fate un passo in avanti. E nel frattempo io farei partire la clip del vincitore del trofeo Giacinto Facchetti, singolare maschile. Grazie. 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 Vincitore 2017 del trofeo Giacinto Facchetti, Damiano Zenoni, un cuore nero-azzurro. Invitiamo a salire sul palco Barbara Facchetti, anche il presidente del CONI regionale Oreste Perri. Possiamo venire qui avanti, la consegna del premio Oreste Perri, buonasera, come va? Tutto bene? Avvicinati, aspettate che c'è anche Oreste Perri che insieme a noi per la premiazione è del vincitore del trofeo Giacinto Facchetti. Barbara, io ti rubo un secondo Barbara però, perché ti rubo un secondo. Vieni qui davanti a me insieme a Laura, anzi quindi mi faccio da parte. Credo che papà era di casa, questo era il suo momento di relax verso l'estate quando finirono i campionati e ha dato tantissimo all'accademia. Credo che la cosa più bella sia vedere la passione e soprattutto l'amicizia di molti personaggi che tornano ogni anno per giocare questo trofeo intitolato alla memoria di tuo papà. Sì, infatti questa è la ragione per la quale anch'io sono felice di partecipare ogni volta quando Giovanni mi chiama, sono disponibilissima, perché comunque ricordo questo torneo con veramente grande piacere. Per noi era sempre un momento piacevole in cui si stava tra amici, Giovanni coinvolgeva un sacco di calciatori, per cui appena potevano venivano a farsi una partita. E quindi è sempre bello vedere che c'è una grande partecipazione, perché comunque questo aiuta a mantenere viva la memoria. Siete tutti piccoli in famiglia, vedo, compreso Luca, complimenti. Parli singolarmente con i tavoli tu. Arriviamo all'ultima premiazione come torneo. Direi che è estremamente importante perché la solidarietà è nata proprio nel ricordo, anche vieni che ci presentiamo al centro, di queste due grandi persone. Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, doppio maschile. Quindi, terzi classificati, Ermanno Viscardi e Alessandro Vanoi, che invitiamo a salire sul palco, ovviamente insieme ad Antonio Viscardi e Paolo Occhipinti. Eccoli che ci raggiungono per le premiazioni. Benvenuti, buonasera. Benvenuti su questo splendido palco. Complimenti. Complimenti. Ok, mentre facciamo le foto dritto per i terzi classificati, io chiamerei i secondi classificati. tre personaggi straordinari, una da totalmente tanto con la maglia dell'Atalanta nella sua carriera. Che ancora ci ricordiamo i cori, peraltro. Ragazzi, fa venire i brividi. Sei pronta, li chiami tu? Pronta, chiamiamo Ettore e Maurizio Ganz. Maurizio Ganz col papà Ettore. Maurizio, giustamente. Papà, questa sera almeno l'abbiamo lasciato a riposo, vero Mauri? Allora, ti prego di rimanere qui con noi, perché adesso lanciamo una clip per i vincitori. E poi, perché ti farò dire due parole su questa premiazione. Quindi, resta con noi. Vediamo la clip. Vediamo. Vincitori dell'inizio del 2017, Amedeo Amadeo e Oscar Magoni. Eccoli lì. Eccoli qua, guarda com'è emozionato il dottore. Oscar. Primo posto, scusa. Devo ringraziare quest'uomo qui che nel 1993 mi ha fatto vincere e nel 2017 mi ha fatto rivincere. Dunque, grazie a Doga, sei un grande. Grande. Maurizio, a un certo punto la debate è quasi rattrezzata, perché il primo set l'ha vinto loro 6-3. Poi vi siete trovati sul 5-3, 30-0 per voi. E poi c'è stato questo colpo di coda del dottore che ha cominciato ad attaccare Oscar a dire più preciso, più preciso. Sono stati bravi, hanno meritato rivincere. Forse, come hai detto te, sul 5-3, sul 30-0 per noi ho smasciato due volte contro la rete. Forse lì poteva cambiare qualcosa, però sono stati bravi. Ma l'importante è trovarci qua come tutti. Chiedo scusa, non c'è mio papà, perché dopo 6.000 km in 10 giorni l'ho dovuto stoppare, perché ieri notte eri arrivato a casa alle 3 e mezza del mattino, questa sera sarebbe arrivato a casa alle 5-6 del mattino. Quindi chiedo scusa, però è qui con noi lo stesso, è despiaciuto, però comunque vi saluta. Grazie. Io vorrei chiedere una... Vieni qua, dottore. Il trofeo Achille Cesare Bortolotti rappresenta qualcosa di speciale. La cosa più speciale è che eravamo tutti atalantini in campo a fare la finale. È un anno particolare, l'Atalanta ha fatto cose straordinarie, spero ripetibili, ma difficilmente ripetibili, e noi abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto. Ecco, devo dire una cosa che insieme a Maurizio e a suo papà ci dicevamo, insieme a Mago, prima di entrare in campo e l'abbiamo detto anche dopo. Prima noi volevamo vincere anche loro, quando siamo tornati abbiamo detto, tutto sommato vincere vuol dire avere per sé. Noi abbiamo giocato per dare agli altri. Questa è stata la considerazione che ha fatto la coppia che ha perso. Grazie. Quindi direi che partirei da lì per dire che grazie a Giovanni e all'Accademia dello Sport ci siamo andati su questo percorso della solidarietà che ci fa diventare più forti, più decisi, più competitivi e soprattutto più buoni. Questo è il messaggio più importante che il papà e Maurizio ci hanno dato e che io e Magoni subito abbiamo preso perché non siamo fessi anche se andavamo insieme nel 1993. Teniamo bocca. Lui frequentava l'elementario ancora. Bene, vincitori, Oscar Magoni, Amadeo Amadeo. Grazie. Umberto Bortolotti vi porta il suo saluto. È bloccato in autostrada, c'è un incidente, un ingorgo incredibile e purtroppo sapeva di non fare in tempo ad arrivare e si è scusato tantissimo. Ma abbiamo talmente tanti personaggi qui sul palco a ricordare la figura di Achille Cesare che è come aveva avuto anche qui con noi Umberto Bortolotti che ci ha seguito in tutte le sere al tennis al centro Mongodi di Civino. Andiamo a salire sul palco. Pickler, anzi. Poi il sindaco di Monguelfo, Albin Schwingshackle. Il sindaco di Braies, che peraltro è il lago più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Spero di pronunciarlo bene. Friedrich Mittermeier. Il presidente degli albergatori di Monguelfo, Georg Sonner. Pier Giorgio Baruchello, presidente del Tennis Club. C'è stata una riunione di tre giorni per capire come pronunciare il suo cognome. Che è? Il mio nome è Albin Schwingshackle. Che per noi bergamaschi è impronunciabile. Lo so. E cosa ho detto io, scusa? Ah, non hai inventato tu? Non mi sembrava quel suono. Allora Giovanni, da sempre c'è questo gemellaggio meraviglioso. Io vorrei adesso che Hansi Pickler ci dica due parole. La provincia di Bolzano è rappresentanza. Il microfono glielo possiamo passare? E così? Perfetto. Buona serata a tutti dell'Alto Alice. Grazie, è proprio bellissimo essere qua oggi e con questo piccolino regalo nostro per 15 famiglie che possono fare la vacanza vogliamo aiutare un po', vogliamo fare dimenticare queste famiglie un po' le ore difficili che avevano e di stare una settimana nella montagna, prendere aria fresca e forza per i momenti difficili e riposare un po' e prendere forza. Perché come avete visto dal video conclusivo ospiteranno le famiglie di Amatrice nelle loro splendide montagne proprio per cercare di regalargli un po' di relax e soprattutto di dispensieratezza. Il sindaco di Monguelfo. Gentili signore e signori, caro Presidente Licini, ospiti d'onore, colleghi di Monguelfo, buonasera a tutti voi anche da parte mia in nome del Comune di Monguelfo-Tessido. Per primo un grazie al Presidente per l'invito a questa serata e quella bella festa dove siamo adesso. Per primo devo dire un grande grazie a lei Presidente che lei ha iniziato quel progetto per le famiglie di Amatrice insieme con la provincia di Bolzano e anche con gli albergatori di Monguelfo. Perché penso che noi sappiamo solo una piccola parte di tutto quello che è successo a tutte quelle famiglie nella zona di Amatrice. E in quel momento se possiamo ospitare quelle famiglie per alcuni giorni a Monguelfo della nostra bella natura. E di nuovo grazie a lei per iniziato tutto questo. Il Presidente mi ha chiesto di dire alcune parole fra la nostra zona. Noi un piccolo comune, Monguelfo-Tessido, in Alto Adici, in Valle di Pustaria. Siamo davvero piccoli, come ho detto, 2.900 abitanti, non come Pergamo, 3.100. Ma abbiamo la fortuna di essere in una bella bella natura. Lei lo conosce. A tutti voi l'invito, se avete tempo, venite nella vostra zona. Abbiamo da avere una bella zona d'inverno, anche d'estate. In estate per andare in montagna durante l'inverno, sci a fondo, anche sci alpino. E per questo un invito a tutti voi per la nostra zona. E di nuovo grazie per l'invito. A tutti voi buona serata e bella festa. Grazie al Sindaco di Monguelfo. Adesso vi farei vedere, rimanete qui sul palco con me, perché abbiamo un video che ci ha fatto pervenire il Sindaco di Amatrice, Sergio Pierozzi. Guardiamo queste immagini. Una sciappa d'eccezione, frutto di una tratellanza, di una conoscenza che nasce dal 24 agosto, per cui un simbolo, un simbolo d'amicizia. Io saluto tutti quanti i partecipanti a questa serata organizzata dall'Accademia dello Sport per la Solidarietà. È inutile che dico tutte le cose che Bergamo ha fatto per noi. Un saluto all'Atalanta, alla DEA, un ringraziamento alla provincia di Borsano, quel comune di Monguelfo, scusate, che ospiterà nostre famiglie. Io faccio gli auguri ad Antonio Percassi per i suoi 25 anni, per cui sei giovanissimo, ma al di là dell'età siete giovanissimi, per chi uso il plurale, per capire un grande cuore. Per cui io vi saluto. Mi scuso per non essere presente, ma in questo momento le cose non vanno tanto bene, è necessaria la mia presenza, perché qualcuno pensa che Amatrice è guarita, non è così. Amatrice fino ad oggi è stata venuta in vita in maniera artificiale, grazie al grande cuore di persone come voi. Un abbraccio e buona sera. E questo era il saluto del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Giovanni, abbiamo sentito tutto quello che hai fatto con l'Accademia dello Sport di volontariato, quanto bene hai fatto in questo paese e anche oltre, fai anche tanto bene al nostro paese. Ci dai sempre tanta forza, spingi, porti gente, fai tanta pubblicità. Per questo un piccolo ringraziamento. Questo qua e ti possiamo consegnare anche l'invito ufficiale che poi porterai al sindaco di Amatrice che abbiamo sentito appena. Grazie ancora e tanti auguri per il futuro e la nostra amicizia. Grazie. Devo dire che Monguelfo è la mia seconda città, perché quando ho un minuto di tempo ci vado e in questi giorni di tanto lavoro non vedo l'ora di raggiungere la vostra località, la mia seconda casa, perché voglio anche io di riposare un po'. Grazie a voi di essere qui questa sera. Invitiamo a salire. Esatto, invitiamo a salire su un palco per un breve saluto. Partiamo dal senatore Giacomo Stucchi, presidente Copasir. L'onorevole Elena Carnevali. L'onorevole Giovanni Sanga. Claudia Terzi, assessore regionale all'ambiente, energia e sviluppo. Poi chiamiamo a salire sul palco Alessandro Sorte, che è l'assessore regionale all'infrastruttura e alla mobilità. Giacomo Angeloni, assessore all'innovazione e semplificazione del Comune di Bergamo. Mio grandissimo amico, Monsignor Giulio Della Vite, segretario generale della Curia Vescovile. Pronto a fare dei selfie, mi raccomando. Oreste Perri, presidente del CONI Lombardia. Ok, ci informano che Giacomo Angeloni non è presente. Carlo Nicora, direttore generale dell'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Francesco Locati, direttore generale azienda sociosanitaria territoriale di Bergamo Est. E il presidente dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, Alessandro Masera. Io sono amico di una persona che è fratello sostanzialmente del sindaco di Amatrice. Una cosa bellissima, mi ha detto questa persona poche settimane fa, quando Pirozzi è venuto a Bergamo ospite di Licini e poi del presidente Percassi in occasione della partita, il cui rigavato poi è stato devoluto per la costruzione del campo di calcio Amatrice. Pirozzi ha detto a questo mio amico, non c'è niente da fare, voi bergamaschi avete una marcia in più. E questa è la testimonianza di come noi, senza che ci viene imposto nulla, riusciamo ad aiutare gli altri che hanno bisogno. Resta Perry, andiamo così. Sono io a ringraziare voi, a ringraziare Giovanni, gli amici dell'Accademia dello Sport, tutti voi. È sempre una grande emozione, poi l'abbinamento Sport e Solidarietà credo che sia un binomio vincente. e credo che Bergamo sia un po' la capitale anche della solidarietà, grazie al vostro impegno, all'impegno dei volontari e di tutte le persone che si dedicano, come è stato detto bene prima, per regalare un sorriso a chi soffre. Claudio Terzi, Assessore. Il lavoro che voi fate, il lavoro che fa l'Accademia dello Sport per la Solidarietà viene citato da me e Alessandro come l'esempio virtuoso, spesso e volentieri in regione, è portato proprio come esempio per anche dimostrare che insomma se tutti ci mettiamo insieme riusciamo a dare concretamente una mano a chi ha bisogno e le parole del sindaco di Amatrice insomma ci hanno come qualche mese fa in occasione dell'altro evento ci hanno aperto il cuore e ricordato che è un tema sempre attuale, forse passa un po' meno sui telegiornali ma è sempre assolutamente attuale quindi a Giovanni va anche questo particolare ringraziamento perché tiene un faro acceso su una situazione critica. Grazie anche da parte mia, mi associo ai ringraziamenti per questa realtà che ogni anno cresce e grazie soprattutto per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà. La solidarietà nel campo della salute è fondamentale e prima come ex azienda Bologna e adesso come SST Bergamo Est siamo veramente grati per l'attenzione che è stata data e che verrà data anche all'ambito della salute e lo sport è proprio uno di quegli strumenti per promuovere la salute. Da il dottor Francesco Locati, direttore generale dell'azienda sociosanitaria all'onorevole Giovanni Sanga. Grazie, un saluto e un abbraccio a tutti, è bello condividere questi momenti e poi, cosa dire, parlano le persone che sono qui, le riprese che abbiamo visto, le fotografie che sono state rappresentate, sono il segno della nostra solidarietà ma soprattutto il segno dell'impegno dell'Accademia dello Sport che resta per tutti noi un esempio. Grazie e buona serata. Francesco ha già detto quanto è importante lo sport e quanto è vicino lo sport alla sanità io aggiungo che il ringraziamento va a voi, va a Giovanni per l'attenzione che avete stasera poi è stato scelto di premiare nell'ambito della ricerca un medico, un direttore, un ricercatore del nostro ospedale avrete modo di rendervi conto come a Bergamo c'è l'eccellenza magari ne parleremo dopo, quindi grazie per questa scelta sappiate che l'ematologia e quello che vi racconteremo stasera è dentro nel nostro ospedale ed è sicuramente orgoglio orgoglio di tutti noi, grazie per tutti voi. Quindi dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII all'onorevole invece qui con me Elena Carnevali Grazie, io voglio davvero un ringraziamento e gratitudine a Giovanni Licini per cosa è riuscito a fare di questa Accademia della Solidarietà perché non solo siamo siete, siamo cresciuti numericamente e soprattutto credo che ormai siamo anche una grande famiglia e la cosa straordinaria è che molti progetti innovativi se posso dire anche nel campo della sanità, nel campo del sociale sono resi possibili anche grazie a queste disponibilità abbiamo visto al teatro Donizetti dove già abbiamo avuto l'anticipazione di alcune buone cose che stanno insieme anche a cose buone che ogni tanto si fanno anche a livello nazionale e quindi questi 30 milioni per finanziare progetti di autonomia che lo Stato ha dato alla Regione Lombardia di cui ha fatto la delibera proprio in questi giorni sono risorse che vanno proprio nella stessa direzione e quindi la cosa buona è che davvero credo che grazie a questa solidarietà, a questa disponibilità a questa amicizia che c'è perché qui si crea anche amicizia sono sicura che questa Accademia dello Sport continuerà a crescere grazie mille Giovanni grazie adesso sono curioso di vedere Monsignor Giulio dalla vite cosa ci combina questa volta perché a dicembre ha fatto un selfie generale mi hanno detto che devo stare buono invece mi devi sorprendere no, il pensierino spirituale l'ha già fatto l'amico Amedeo per cui sono esentato volevo solo dire una cosa Papa Giovanni diceva che sono tutti capaci di fare il bene pochi sono capaci di farlo bene fare il bene e farlo bene è da pochi voi siete l'eccellenza in questo grazie di cuore grazie mille Monsignor Giulio Alessandro Sorte assessore regionale perché tutti insieme siamo una comunità e qui c'è tutto un arco trasversale che ha contribuito a questo risultato e quindi credo che questo rafforzi Bergamo questo rafforza la nostra comunità questo rafforza la nostra solidarietà e l'immagine che diamo in Lombardia e in Italia grazie Giovanni ecco diamo il microfono allora al presidente Alessandro Masera buonasera a tutti vi porto i saluti del direttivo dell'Accademia e vi ringrazio per essere qui numerosi con questa sera si chiude un torneo ma non ritengo che sia un torneo questa è stata sicuramente una festa di tre settimane di solidarietà, amicizia e divertimento io penso che sia stato un anno eccellente non solo per le condizioni climatiche e quindi quando avremo tirato i conti sicuramente ci sarà un discreto avanzo da destinare alla solidarietà desidero anche ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa festa e questa è la serata di questa sera i volontari che sono là in fondo che ci sono prodigati perché tutti si sentissero a casa al villaggio ospitalità gli enti che sono qui rappresentati che ci sono sempre vicini e ci sostengono tutti gli sponsor che tutti gli anni crescono e ci permettono di nuovi traguardi e poi direi che devo ringraziare per lo sforzo oserei dire in mano ai Giovanni perché ci mette l'anima perché tutto vada bene e penso anche di augurargli un po' di giorni di riposo nei boschi e qui faccio una breve parentesi siccome mi hanno detto che uno dei più bravi del mondo a raccogliere i funghi questa volta difendo i funghi per favore lasciane qualcuno anche agli altri ve lo chiediamo col cuore perché l'Accademia dello Sport è riuscita il 24 di settembre dopo un mese esatto a far arrivare tre casette mobili abitate subito dalle famiglie di Amatrice in Rai abbiamo sentito due mesi fa ecco che arrivano le prime casette mobili se fosse sburocratizzato tutto il paese anche a livello di comunicazione sarebbe fantastico arriviamo dritti al cuore della gente dateci una mano voi perché siete i soli che lo possono fare a Roma grazie adesso diventiamo serissimi perché entriamo in quelle che sono le eccellenze 2017 è un momento particolare nei prossimi minuti vedremo salire su questo palco delle persone che hanno dato tanto nella loro carriera nella loro vita non solo a se stessi ma soprattutto agli altri e questo è un pochino quello che muove la base di questi che vengono denominati Golden VIP Golden VIP 2017 io direi di iniziare subito con quello per la ricerca scientifica La medicina traslazionale è stato un insieme di metodologie di laboratorio e cliniche che hanno consentito di trasferire rapidamente i rapidi progressi che la scienza di base ha prodotto nel corso degli ultimi anni al letto degli ammalati questo ha coinciso con lo sviluppo della biologia molecolare della genetica molecolare che ci ha permesso di capire in profondità le cause delle malattie e ci ha quindi permesso di mirare in maniera precisa i target molecolari su cui costruire i nuovi trattamenti Io all'inizio ho avuto la fortuna di fare un percorso dedicato esclusivamente alla ricerca di base grazie al professor Garattini e all'istituto Mario Negri ho trascorso tre anni a Milano dedicandomi interamente all'immunologia di base e grazie a questo periodo di formazione ho potuto andare negli Stati Uniti al momento della mia partenza il professor Barbui mi contattò e mi suggerì di tenere un occhio aperto a quelle che potevano essere le prospettive future e che nell'ematologia clinica si sarebbero potute aprire e così sono partito con questo doppio viatico ho fatto tesoro fin dall'inizio dei loro suggerimenti e al ritorno in quei due anni, dopo quei due anni era chiaro che l'ematologia rappresentava la disciplina che offriva immediatamente un trasferimento al letto dell'ammalato di questo enorme carico di innovazioni l'associazione Paolo Belli è stata determinante per la storia dell'ematologia di Bergamo in questo ospedale perché dal 1992 ha affiancato la quotidiana fatica del nostro lavoro facendosi carico delle tante esigenze che per fare al meglio questo lavoro si dovevano affrontare quella del professor Garattini di puntare sui giovani è stata una lezione straordinaria allora a me faceva piacere sentire un uomo come lui che sosteneva l'importanza di investire sui giovani perché era un momento un po' particolare in cui i giovani della mia generazione venivano spesso trattati male invece in quell'istituto in quel momento abbiamo proprio respirato quest'aria in cui veramente si sentiva che il futuro passava attraverso la nostra esperienza i progressi che dobbiamo fare, che dovranno essere fatti nei prossimi anni sono tantissimi perché i bisogni rimangono tantissimi molte delle nostre malattie restano non curabili sono curabili al costo di trattamenti ancora molto tossici che compromettono a lungo la qualità di vita dei pazienti quindi i margini di miglioramento sono enormi non ho grandi hobby ho una grande passione per il calcio fin da quando ero bambino e non ho mai rinunciato a sapere e a seguire ogni domenica le vicende del campionato perché abito a Bergamo da quando avevo 8 anni e quindi inevitabilmente ho un grande amore per l'Atalanta anche se la mia squadra del cuore di quando ero bambino e si sa che questa è importante era il Milan perché quando ero bambino abitavo in un paese vicino a Milano e quindi conosco mia moglie da quando eravamo in quarta ginnasi al ginnasi al liceo Paolo Sarpi e abbiamo vissuto praticamente sempre insieme anche nel percorso universitario lei poi ha pensato bene di dedicarsi a una medicina un po' meno impegnativa rispetto alla mia ma è sempre stata la persona che mi ha accompagnato in ogni decisione quotidiana e veramente a lei devo tutto noi dobbiamo seguire l'esempio dell'Atalanta in questo senso ma più che pensare a trovare Papu Gomez ce ne saranno di Papu Gomez noi dobbiamo invece pensare proprio a questa nidiata di talenti di giovani talenti che ogni anno vengono messi in prima squadra questa è la filosofia giusta nel calcio e anche nella ricerca scientifica invitiamo a salire sul palco il professor Rambaldi e il professor Andrea Biondi ordinario di pediatria all'università di Milano Bicocca professor Biondi non vi nascondo che è un motivo di grande emozione e piacere essere qui alla consegna di questo riconoscimento al professor Rambaldi che per me è Sandro abbiamo condiviso in tempi diversi come ha già detto il professor Rambaldi il fatto di trovarsi nell'inizio degli anni Ottanta ad accettare la sfida come italiani postdoc l'Italia di trovarsi nella sfida di lavorare all'Harvard Medical School ed è iniziata così nel 1989 Bergamo nella divisione diretta all'ora del professor Rambaldi si è dotata della unità di trapianto che il professor Rambaldi ha iniziato a dirigere e quello che ha caratterizzato sempre lo sforzo come avete sentito è stato quello di guidare e di trasferire al letto del malato ciò che è rilevante è stata la rivoluzione molecolare ma è stata negli anni più recenti la rivoluzione che le cellule da sole o geneticamente modificate possono diventare un farmaco e permettetemi di dirlo voi direte ma lei è un amico come fa a dirlo con obiettività dovete essere orgogliosi di pensare questo lo dicono i numeri dell'attività scientifica e clinica di avere all'interno dell'ospedale Papa Giovanni la più grande e più importante ematologia italiana è proprio così tutto questo e molto di più per me e per tutte le persone che li vogliono bene un grande Sandro grazie è una grande emozione per me questo momento perché non sono amico ma sono un grande ammiratore del professor Rambaldi io l'ho conosciuto tanti anni fa e credo che le parole che ci ha detto l'attenzione alla persona il puntare sui giovani e sui talenti lo sguardo verso il futuro e il sacrificio quotidiano in un'attività che è di suprema solidarietà che è proprio la ricerca scientifica spieghino il senso di questa cosa e il filmato e le parole del suo presentatore possano dirlo meglio di me allora vi dico tre cose Alessandro come direttore Alessandro come uomo Alessandro come ricercatore allora come direttore parlano i numeri beh come ricercatore Alessandro voi sapete che esistono delle classifiche c'è una classifica in cui ci sono i cento migliori ricercatori italiani una classifica fatta da una società internazionale abbiamo ben nove dei nostri medici che sono tra i primi cento il primo è Beppe Remuzzi che tutti conoscete il secondo medico del Papa Giovanni è Alessandro Alessandro Arambaldi la ricerca come ha detto il professore è su tanti campi mi piace una frase che ogni tanto Alessandro dice che la ricerca la nostra ricerca la ricerca che fa col professor Biondi è quella che ci permette di avere oggi i farmaci che cureranno domani allora in queste diapositive sono raccontate fatti trent'anni di ricerca in immunologia e in ematologia quando abbiamo iniziato trent'anni fa a studiare queste malattie con un approccio immunologico speravamo di poter avere un giorno delle cellule del nostro sistema immunitario capaci di distruggere un tumore questo sforzo è rimasto vano è stato non di successo per oltre vent'anni negli ultimi dieci anni si sono sviluppate delle tecniche per cui quella piccola cellula che vedete è un linfocito del nostro sistema immunitario è diventata capace di attaccare e distruggere quella grande cellula che è una cellula di leucemia questo grazie all'innovazione dei farmaci ma soprattutto grazie alla ricerca della genetica molecolare che permette di modificare quel linfocita che vedete in questo momento sta attaccando e portando a morte quella cellula grande che è una cellula di leucemia acuta speriamo che questo veramente possa cambiare la storia dei malati con le malattie più resistenti grazie di cuore per tutto quello che fa ogni giorno professore Alessandro Rambaldi Golden Vip alla ricerca scientifica grazie una malattia cara Laura veniamo a un altro momento importante dei Golden Vip direi direi facciamo abbassare un attimo le luci un filino vediamo facciamo vedere una clip allora seguitici con questa clip diciamo dopo che ho smesso di giocare a calcio mi sono dedicato a tentare di fare l'imprenditore diciamo che non è andata male insomma diciamo che la prima più importante il grande colpo è stata la realizzazione di Orius Center quando ho smesso di giocare a calcio a 23 anni ero stato trasferito a Cesena e non mi piaceva perder del tempo tra un allenamento e l'altro ero abituato qua avevo avuto la fortuna di incontrare Luciano Benetton a un lunedì che io l'ho chiamato dopo che avevo fatto una partita ho chiesto un incontro a Treviso lui mi ha confermato l'incontro e da lì è nato un'amicizia mi ha dato la possibilità di aprire il primo negozio automato nel mondo che era la seconda catena con il brand Benetton fu un grande successo perché con tutti anche i giocatori amici dell'Atalanta hanno aiutato a fare marketing a mettere il cappellino sul pomodoro le magliette in giro in tutto lo stadio cosa che prima non c'era nemmeno sulle maglie è l'arma decisiva nel nostro business soprattutto nel mondo del retail anche a livello real estate sia io che i miei figli insomma abbiamo una sensibilità di quello che sono le richieste o quello che potrebbe piacere alle persone in generale non solo nel venere e nell'oggi ma soprattutto nel futuro dall'Italia oggi siamo in 22 paesi nel mondo siamo cresciuti molto ma soprattutto siamo partiti dalla nostra terra da Bergamo quindi è da lì che abbiamo imparato a fare il mestiere e poi abbiamo sviluppato molto tanto in Italia e soprattutto adesso siamo molto presenti anche al resto beh la Taranta è fantastica solo la parola dice tutto non dovrei aggiungere altro campionato pazzesco abbiamo battuto tutti i reco dopo 110 anni di storia dopo 26 anni siamo tornati in Europa abbiamo fatto 72 punti ma più di così mi sembra di sognare non mi sembra ancora vero invece ogni giorno prendiamo atto che è che è vero e questo ci fa molto felici perché vediamo tutta la tifoseria bergamasca chi ama l'Atalanta che è molto molto felice siamo nati da bambini da ragazzi ho 14 anni sono stato selezionato nel settore giovanile ho fatto tutta la storia nel settore giovanile la prima squadra quindi so cosa vuol dire l'Atalanta così come la conosce molto bene mio figlio Luca che è una spalla fondamentale per questo risultato e tutti gli altri miei figli che sono compreso il piccolino Michael che ha 4 anni che sono super tifosi e amano l'Atalanta questo è un amore verso la nostra squadra e cerchiamo di dare il meglio di noi stessi con una politica però molto precisa molto seria perché dobbiamo guardare soprattutto che l'Atalanta mi conti in ordine e cercare di fare una squadra competitiva l'importante alla fine e il nostro grande successo e scudetto è prima di tutto salvarci il lunedì di mezzanotte e mezza e trenta che cominciano a girare i giornali e subito l'attenzione va sui commenti dell'Atalanta c'è tanto da fare oggi noi poi abbiamo più di 9 mila dipendenti quindi è una struttura impegnativa pesante che devi tenerti sveglio 24 ore su 24 abbiamo un programma nei prossimi 5 anni di rifare tutto lo stadio e renderlo uno stadio moderno affascinante soprattutto sappiamo che è il cuore pulsante di 110 anni di storia dell'Atalanta abbiamo voluto restare lì e speriamo di far felici i nostri tifosi Golden Vip per imprenditoria e sport 2017 Antonio Percassi invitiamo il direttore della gazzetta dello sport Andrea Monti a salire sul palco qui insieme a noi cosa devo fare presentare per Cassi a Bergamo ma stiamo scherzando insomma no vi dico semplicemente questo è stato un anno d'oro per la gazzetta ed è stato un anno d'oro grazie a Bergamo quindi primo ringraziamento va a Bergamo perché non parlo di sorprese nelle sorprese c'è un po' il fattore C ogni tanto aiuta la fortuna no le novità dell'anno sportivo sono state l'Atalanta che nasce dalla straordinaria capacità allo straordinario carisma di Antonio Percassi la Sofia Goggia che poi vedremo dopo altro esempio di piccolo straordinario carisma forza applicazione talento voglia di vincere e poi abbiamo avuto una altrettanto straordinaria tappa del Giro d'Italia poche settimane fa in cui c'era tutto Bergamo e tutta la Bergamasca in piazza e io e Giorgio Gori siamo amici da un po' di tempo e siamo guardati in faccia e per la prima volta ho colto nel suo occhio un segno di commozione e quasi di stupefazione questo è Bergamo Bergamo è dal mio punto di vista cioè dal punto di vista modestissimo del direttore della Gazzetta l'esempio assoluto di come lo sport sia un fattore di educazione un fattore di divertimento un fattore di appartenenza l'Atalanta è l'appartenenza massima ringrazio Giovanni Licini e ringrazio soprattutto Antonio Percassi perché ci ha dato dei momenti indimenticabili e anche delle gran belle tirature quindi grazie infinito grazie a te Andrea Monti grazie mille ecco io vorrei dire proprio due parole su Antonio Percassi mi permetto di farlo come un modesto cronista che segue da qualche decennio all'Atalanta nonostante tutto però il crederci e soprattutto il coinvolgere la famiglia abbiamo visto delle immagini lascio il microfono Antonio Percassi di entusiasmo vero nei momenti in cui c'è la presentazione della squadra nel momento in cui si respira quel profumo di erba che forse pochi hanno avuto la possibilità e la fortuna di calpestare ma che rappresenta tanto per chi ha giocato a pallone ecco come fa a conciliare Antonio Percassi ne abbiamo parlato proprio questa mattina l'amore e la passione per un qualcosa che è l'Atalanta dove la passione e l'amore ti fa diventare a volte cieco e ti fa perdere la razionalità con invece la grande razionalità e la grande sfida che ha un imprenditore come Percassi e abbiamo visto il gruppo che ha creato con la sua famiglia come fa a combinare queste due cose buonasera a tutti innanzitutto c'è una fortuna io sono un grande una grande passione un grande tifoso dell'Atalanta e potrei fare dei disastri per fortuna c'è mio figlio che mi tiene fermo e lui guarda i conti ed è molto forte sotto questo aspetto quindi devo dire che la forza nostra è di una famiglia dove cerchiamo di tenere il giusto equilibrio pensando che una società come l'Atalanta dove noi abbiamo un esame proprio anche tutta la famiglia da piccolini poi siamo stati nel settore giovanile come ho detto ed è stato un insegnamento per la vita incredibile perché l'Atalanta insegna primo grande educazione grande rispetto verso gli altri e il comportamento è fondamentale io ho avuto per esperienza a 14 anni quando sono arrivato da Closone sono arrivato a Bergamo e mi sembrava di essere arrivato a New York è stato il primo giorno che siamo arrivati lì e avevano dei ragazzini hanno detto qui uno primo dovete studiare secondo educazione fuori del campo comportarsi bene in campo grande cattiveria da Atalanta vera che è quello che noi vogliamo fare io ho imparato tanto da quell'esempio questo signore questo imprenditore ha iniziato la sua carriera imprenditoriale con un pomodoro che se ci fate caso è quasi identico a una mela ma non morsicata ha anticipato i tempi già da lì con i marchi e i brand ed era tomato e da quel pomodoro è nato un grande impero credo sì devo dire che su quel pomodoro io ho rischiato tutto ho messo tutti i soldi che avevo avevo aperto il primo negozio grazie all'autorizzazione di Luciano Benetton qui a Bergamo fu un grande successo e dopo smisi di giocare mi sentivo più imprenditore anche se il calcio ha perso un grandissimo giocatore come il sottosfitto io inviterei a salire sul palco il direttore dell'eco di Bergamo Alberto Ceresoli il senatore Giacomo Stucchi l'onorevole Elena Carnevali l'onorevole Giovanni Sanga e Giovanni Pirovano vicepresidente della Mediolanum per la premiazione allora per le foto facciamo un applauso che credo sono quei momenti in cui bisogna stemperare un po' l'emozione bene Golden Vip 2017 e io vorrei che il tavolo tutti i tuoi familiari ci raggiungessero qui adesso perché oggi è il compleanno di Antonio Percassi e vogliamo che venga festeggiato con la famiglia ai figli se ci raggiungono Cristina spingili spingili sul palco che hai detto che ci dà una mano hanno fatto una torta ad hoc con Golden Vip 2017 auguri Antonio il simbolo dell'Atalanta e questa è la musica che accompagna invece i tuoi figli qua sul palco per festeggiarlo beh ti abbiamo già sottratto al compleanno auguri buon compleanno e grazie mille per la disponibilità una bella e simpatica parentesi anche questa per festeggiare non solo il Golden Vip ma un traguardo importantissimo che mancava da tantissimi anni c'è il ritorno in Europa dell'Atalanta e quello che è un riconoscimento all'uomo imprenditore e soprattutto all'uomo anche nel mondo dello sport Antonio Percassi prima di denunciare il terzo Golden Vip l'Accademia dello sport per la solidarietà ha dei premi speciali quindi vorrei sul palco Luca Percassi l'amministratore delegato dell'Atalanta poi insieme a noi l'allenatore in seconda Tullio Gritti e il direttore operativo Roberto Spagnolo tre degli artefici di questo grande traguardo raggiunto dall'Atalanta in questa stagione che rappresentano un premio speciale per la Bergamo sportiva ma anche per l'Accademia dello Sport che ha messo in copertina quest'anno una grande bandiera d'Atalanta e ha portato veramente bene vedi quest'anno è stata proprio una un'annata di intuizioni allora a questo punto arriviamo al terzo Golden VIP 2017 riabbassiamo le luci e vediamo queste immagini decisamente emozionanti che dopo la fantastica vittoria di ieri il decimo podio della stagione di Coppa del Mondo parte la nostra finanziera subito la più veloce che spazio che si è presa tantissimo spazio si è presa in entrata a muro a mio avviso giusto brava perché è riuscita così a fare velocità in quella parte così più con più pendenza stiamo a vedere un pochino se se perderà oppure no sembra buona no buona buonissimo che lungo attenzione che salto completamente sulla spina che ci siamo dai aveva già accumulato 52 centesimi di vantaggio sulla Stucke brava 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 vediamo un po' eh ci ha perso tutto eh la velocità non è elevatissima non è male però quasi 88 km orari però aveva perso 4 decimi abbondanti bastano anche 10 centesimi anche uno basta per andare al comando e poi dopo se la devono vedere le altre bravissima bravissima deve spingere però deve collegare ad essere un pochino più dolce ancora vediamo un pochino se è anche veloce è anche veloce qualcosa come 4 decimi dai 48 centesimi di vantaggio su Ilkas dai che la portiamo a casa anche questa contro l'1,28 ottimo sì il cromometro 1,20 e 35 grande una giornata fantastica di Sofia Goja il podio che parla per due terzi italiano Goja Stuketz Brignone che mazzata che gli ha dato ci inchiniamo noi centesimi ancora 11 centesimi due gare 11 centesimi due gare ancora tu sì ancora lei premio premio vip d'onore Luciana e Gianni Radici a Sofia Goja grande Sofia vieni qua invitiamo a salire sul palco ancora il direttore della gazzetta dello sport Andrea Monti poi Cristina e Mariella Radici in rappresentanza della famiglia Radici e inoltre un altro uomo di sport come Oresto Perri presidente del CONI regionale eccoci qua allora io lascio prima il microfono al direttore no niente questa questa ragazza che io aspettavo da due o tre anni perché l'avevo vista in Coppa Europa a un certo punto nell'ottobre scorso è venuta a trovarci in gazzetta e ho visto nei suoi occhi quando diceva questo può essere l'anno buono lo sci è uno sport terribilmente cattivo perché ha una serie di variabili che nessun altro sport in realtà ha variabili atmosferiche variabili fisiche la fortuna eh Sofia è uno sport terribilmente complicato non basta il talento lei ne aveva tanto ed era chiaro eh in ottobre ho visto quello che noi giornalisti sportivi con una pessima eh con una pessima frase chiamiamo gli occhi di tigre ma veramente erano di tigre abbiamo seguita tutta la stagione ha fatto qualcosa di formidabile perché è il record di punti ottenuti e di podi ottenuti in una sola stagione 13 podi è un'impresa straordinaria naturalmente naturalmente ce l'ha fatta soffrire fino alla fine e a un certo punto è andata in Corea che ancora non aveva vinto e mi ricordo gli accidenti perché alla mattina eravamo tutti riuniti di fronte al televisore e c'erano partivano delle parolacce perché arrivava sempre il secondo il terzo posto prestigiosissimi ma non ancora quello che volevamo è andata in Corea e sulla pista di Hang Song che è la pista dove si svolgeranno i giochi olimpici prossimo anno ha portato a casa due podi la parte alta quella che conta Sofia ha quello che Giovanni Licini che l'Accademia cerca di dirci è una ragazza di una semplicità di un'intelligenza di una forza di una partecipazione a ciò che ha intorno assolutamente straordinaria c'è una comunanza con quel filo che abbiamo visto con la famiglia Percassi quindi c'è una bergamità un'indole bergamasca che le dà qualche cosa in più vi devo dire che così da modesto esperto io una polivalente di questa forza non la vedo dai tempi della prima Von quindi può solo migliorare però non dico niente perché è un po' scaramantica e quindi le porto solo un grande bacio di tutta la famiglia Gazzetta Sofia Goggia grazie mille benvenuti un po' avanti complimenti esagerati perché paragonarmi anche una buona una stagione speciale una stagione speciale sì sono contentissima della mia stagione è stata veramente sorprendente perché mi aspettavo di ottenere magari dei risultati buoni qualche podio magari anche la vittoria però non pensavo di riuscire a tenere una costanza dei risultati così invidiabili dalla seconda fino all'ultima gara e adesso? adesso io mi sto allenando atleticamente perché la mia stagione è iniziata il 3 maggio a me piace sempre mettere tanto fiene in cascina all'inizio per poi riuscire ad avere le energie per durare durante l'inverno mettiamola così adesso farò due mesi di preparazione fisica poi da metà luglio ritorneremo sugli sci tutto settembre in Argentina e poi da ottobre parte il classico entourage che durerà fino al 20 di marzo sei sempre a casa insomma io mi dovrei fare un passo avanti a Marielle e Cristina perché è un premio importante e per loro rappresenta veramente un pezzo di cuore importante io lo so mi metto in mezzo all'ora un secondo chiedo scusa Arminio non volevo impallarlo con la telecamera però Cristina questo è il premio dei tuoi nonni Cristina e Mariella chi parla delle due tu? guarda io dico faccio i complimenti a Sofia ma stasera faccio parlare a mia sorella perché in questi giorni ho detto anche troppo sinceramente allora ti abbiamo visto in campo anche a te col tennis però credo che questo sia un riconoscimento che hanno voluto dal primo giorno i tuoi nonni e rappresenta veramente un riconoscimento che vuol dire anche solidarietà perché se Bergamo è la capitale della solidarietà i tuoi nonni erano i principali artefici della solidarietà in tutto quello che facevano e credo che il premio a Sofia è una cosa meravigliosa assolutamente infatti sono super orgogliosa di dare questo premio a Sofia primo perché l'abbiamo vista nascere crescere comunque ha fatto parte ovviamente come noi dell'ambiente sciistico e sono davvero felice perché è una persona buonissima ed è una persona però in pista cattiva come diceva Antonio prima è una persona veramente decisa secondo perché è un premio della solidarietà e mi ricorda tantissimo mia nonna Luciana terzo perché è sci ed è mio nonno Gianni e quindi complimenti e in bocca al lupo per la prossima e questa è Sofia Goggia premio VIP d'onore Luciana e Gianni Radici 2017 venite in avanti per una bella foto possiamo dare il taglio a questa grandissima torta meravigliosa con Longhi Banketing che ha preparato noi vi ringraziamo vi auguriamo un buon proseguimento di serata Laura grazie per essere stati con noi grazie Marco Bucarelli grazie mille grazie a voi grazie a Giovanni Vicini un po' di musica in sottofondo per accompagnare il taglio della torta buonasera questo programma è stato offerto da Ferramenta Bonacina 40 anni di esperienza 40 anni al servizio dell'industria Banca Mediolanum il primo gruppo bancario in Italia per solidità e fra i primi in Europa e fra i primi